Non c'è pace per la diocesi di Padova, travolta dall'ennesimo scandalo hard. Nel pieno della bufera del sacerdote padovano che ha inviato una foto porno nella chat dei genitori dei Cresimandi, un altro pet è stato travolto da una vicenda a luci rosse. La procura di Padova infatti sta indagando su una presunta tentata estorsione a carico di un parroco della zona del campo sanpierese. Il prelato sarebbe stato avvicinato da una donna che lo avrebbe minacciato di rivelare a tutti la loro relazione amorosa se lui non l'avesse aiutata economicamente. L'indagine delle fiamme gialle è iniziata dopo aver notato strano uscite di soldi dalle casse del patronato. Il sacerdote, sentito dai finanzieri, non ha voluto raccontare nulla, ha ammesso solo di aver ricevuto alcuni messaggini sul cellulare da parte di una donna ma di non averle mai pagato delle somme di denaro. Donna che al momento non è stata ancora identificata ma che quasi sicuramente è una parrocchiana residente nel campo sanpierese. In procura intanto è stato aperto un fascicolo contro ignoti.